Diana, zoppo Gilberto, e cattivo per questo, Giordano biondo, fresco come un elfo, e Luana, Luana nel caschetto, le tre frecce di Diana Bartuzzetti, che andava enorme a aprire il suo negozio, che era in cima alla via dopo Nanni. Imploravamo Diana perché desse un nome almeno a quei prodotti insoliti, e lei si commoveva, molle e in lacrime, ma poi di colpo ritornava Dea. Non farti più vedere, così aggina la pora mamma di Franco Biagiola, esule dalle marne di Chiarino, che contrattava il prezzo di ogni cosa.